il terremoto impossibile questa non è una zona sismica ma lei è controllato bene certamente guardi qui e qui ci sono tutti tutti i rilevamenti gli studi stratografici questo è una scossa dal nono grado della scala marcalli è impossibile la porta è bloccata permesso non può essere un terremoto ancora il bastione era lui il terremoto questa non è una sismica avevo ragione io lei non ha mai ragione che cosa fate lì muovetevi io mi fanno marian va via che io ho da fare qui ma chi sta presa non eri in prigione si si ma ci stava stretta abbiamo rotto tutto pure lì datemi una finestra una finestra ma non ci sono finestre qui dentro calma capo ci pensiamo a una vita il grillo capo quello che vedo non è vero è lo champagne io non lo reggo lo champagne no non è vero ho bisogno di rifrescarmi le idee calma capo ci sono Ho creduto di vedere quel bestione che distruggeva il casinò E invece, Maxi, quell'energumano in galera, è tutta colpa dello champan Venga, un po' di ghiaccio pure per me Questo è il 33 caparazzoli, ricorgalo Non è lo champan Giù, mi sembra che abbiamo fatto proprio un ottimo lavoro, eh? E non è ancora finito Adesso, ci occupiamo del signor Torsiglio No! No, signor Banana Aspetti, c'è un equivoco Un momentino, mi faccio spiegare Eccolo subito Come dire, un momento Come dire, un momento Come dire, un momento Come dire, un momento